Il bisogno d'amore genera uno dei più forti condizionamenti che può vivere l'essere umano. Diventa quasi schiavo di questa necessità e va costantemente alla ricerca di oggetti di desiderio che possano soddisfare questo bisogno. E quando la persona trova un oggetto di desiderio che amplifica, che rende questo bisogno ancora più forte, ecco lì che la persona si aggancia, si innamora, si coinvolge. Non rendendosi conto che in realtà non è amore vero, tra virgolette, ma è semplicemente la soddisfazione, l'esigenza di poter soddisfare un bisogno che corrisponde al fatto di sentirsi vuoti, di sentirsi isolati, potremmo dire di sentirsi morti, senza quella persona. Il senso della mancanza è il senso del vuoto. È quello che ci fa percepire forte il bisogno d'amore, è quello che ci coinvolge attraverso la sofferenza. Il bisogno d'amore è uno dei più grandi nemici dell'amore stesso, perché non ha nulla a che fare e condiziona soltanto l'essere umano tenendolo legato a delle situazioni di forte sofferenza, dalle quali poi diventa difficile uscire. Bisogna imparare a liberarsi di questo bisogno e l'unico modo per liberarsi di questo bisogno è avendo la capacità di autoprodursi una vita emotivamente significante, autoprodursi una vita significativa, perché se non ci produciamo da soli una vita significativa che deve avere come presupposto soprattutto la capacità di amare se stessi e di essere in armonia con gli altri. Quindi questi sono i due grandi pilastri dell'assenza del bisogno d'amore. La capacità di amare se stessi in modo disinteressato come si amano gli altri in modo disinteressato. Nel momento in cui si riesce a innestare questo e possiamo pilotare la nostra parte emotiva in questo senso, in questo verso, soltanto se riusciamo ad appagarci emotivamente, ad avere la chiave per avere uno stile di vita che sia pagante. Altrimenti non riusciremo a concludere niente. Come diceva Battiato in una sua canzone, non servono tranquillanti o terapie, ma ci vuole un'altra vita. E se la felicità di questa vita la delighiamo non tanto alla ricerca interiore, che dovrebbe essere la vera fonte di felicità, quanto all'esistenza di una persona che possa soddisfare questo nostro vuoto interiore, che si concretizza con il bisogno d'amore, avremo una vita piena di sofferenze. Ma aspetta a noi scegliere quale percorso intraprendere. È importante iniziare a intraprendere il percorso della conoscenza e della consapevolezza interiore, perché è l'unico percorso che è unito a uno stile di vita emotivamente appagante, ci può liberare dal bisogno d'amore, che è la cosa più lontana dall'amore che possiamo trovare. Bene, mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguitemi anche sul blog seduzionevip.com. Ciao!